Dal Vallo di Diano, proprio nel periodo di ripresa dal terribile virus che ha fatto tanti danni nel comprensorio, arrivano notizie di diverso stampo. Se da un lato c'è il raggiungimento per il territorio valdianese dei zero contagi attivi sui 154 totali, dall'altro c'è purtroppo la sedicesima vittima, l'84enne Vincenza Morrone di Auletta. L'anziana era uno degli ospiti del centro Juventus di Sala Consilina dove a marzo scoppiò un grave focolaio di Covid-19 che ha causato nove vittime e lei risultò positiva. Come altri anziani della struttura fu trasferita al Campolongo Hospital di Eboli dove dopo un mese e mezzo dal ricovero i due tamponi diedero risultato negativo. La donna era anche ritornata presso la casa di cura salese ma dopo tre settimane dalla guarigione è tornata ad accusare sintomi riconducibili al coronavirus. Ricoverata a Luigi Curto di Polla e sottoposta a tampone dopo la positività è stata trasferita al Covid Hospital di Scafati dove purtroppo non ha retto il nuovo aggravarsi della malattia ed è deceduta. Il ballo di Diano è ormai nella ripresa, una ripresa dove però non andranno dimenticate le persone che hanno perso la vita in questa dura battaglia.